Per dove e come fosse giunto in quel luogo non era dato sapere. Sapeva solo che l'alba lo aveva accolto Giacere su un verde letto di rugiada. Lentamente schiuse gli occhi, seduto, spaesato, viaprì a fatica, ferito dai raggi del primo sole. Un lampo, idea di essere ancora immerso nel sonno. Un sogno, doveva essere un sogno. Uno dei tanti. La realtà di quel luogo era però così consistente che l'unica via sarebbe stata quella di destarsi nel bel mezzo della notte. Si sarebbe ritrovato nel suo letto, in men che non si dica, se solo fosse iniziata una delle solite corse a perdifiato. Capitava spesso. Un inseguimento, sì. Aveva bisogno di un po' di adrenalina per potersi svegliare. In quel contesto, però, gli pareva quasi impossibile che tutto si tramutasse in uno dei suoi incubi. La pace regnava sovrana tutto intorno. Il cielo terzo. Quell'umido verde smeraldo che si distendeva a perdita d'occhio. E il silenzioso scorrere del tempo dominavano quel luogo. Inutile sperare nel risveglio. E allora che fare? Andare avanti. Alzarsi e camminare, anche se il paesaggio si perdeva all'orizzonte splendidamente monotono. Era l'unica cosa da fare. E così fece. Passarono i minuti. E poi le ore. Passo dopo passo gli parve di essere sempre fermo, nonostante camminasse di buona lena. Ormai l'idea di svegliarsi all'improvviso era poco più che un'illusione. Più che un sogno, questa è una specie di tenero incubo. Pensò, levando per l'ennesima volta lo sguardo oltre. In cerca di un qualsiasi pur minima anomalia. Qualunque cosa, purché spezzasse quella placida monotonia. Poi d'improvviso un sordo ronzio, un lieve spostamento d'aria e una apparizione. Una sorta di piccolo siluro metallico, bianco splendente, privo di qualsivoglio strumento, ala, timone, motore. La spoglia navetta discese e stazionò fluttuando a pochi centimetri dal suolo. Possibile, pensò guardando con curiosità quel mezzo non comune. Ma certo, nei sogni di solito accade questo e altro. Pochi secondi e un portellone dapprima invisibile si materializzò aprendosi ad ala di gabbiano. Dalla fusoliera salto fuori un uomo giovane, alto, dal fisico esile e slanciato. Vestito con una bianca tuta aderente, questi avanzò verso di lui e iniziò a parlare. Benvenuto, caro visitatore. Io sono Virgil, il tuo accompagnatore. Sembra che tu abbia fatto buon viaggio. Ora ti prego di seguirmi. Abbiamo appuntamento col sindaco tra pochi minuti. In silenzioso ascolto non poteva fare a meno di notare che quella creatura, in tutto simile a lui, stava parlando senza che le sue labbra si muovessero. Capisco il tuo sbigottimento, ma non temere. Tutto ti sarà spiegato a tempo debito. Ora gli aveva parlato e a questo punto urgeva a emettere quantomeno un vagito, un grunito o anche soltanto un piccolo segno a testimonianza della sua umana vitalità. Grazie. Non è granché, ma è già qualcosa. Vieni. Salirono entrambi sulla navetta. Appena si furono accomodati, il portellone si richiuse e sembrò fondersi col resto del veicolo, come in un unico blocco. La fisica non era il suo forte e non era nemmeno sicuro se quello che aveva osservato fosse un fenomeno reale o frutto di allucinazioni. Quale strana magia, pensò, mentre la navetta restava ferma galleggiando sul posto. Lo stallo però fu breve e ad un semplice cenno della mano da parte di Virgil il mezzo si mosse. Di nuovo si udì quel ronzio quasi impercettibile. Mi chiamo Ernest. Molto bene, facciamo progressi. Mi scusi se non l'ho detto prima il mio nome, ma sono, come dire, un po' confuso. Tranquillizzati, conosco il tuo nome. Un brivido corse lungo il suo corpo. Subito dopo un lampo. Ah già, non ti dimenticare che questo è un sogno. Buono, ma lo rispetto al solito, ma pur sempre un sogno. Non è un sogno. A quelle parole gli si gelò il sangue nelle vene. Forse quella sensazione provata al risveglio era reale. In più il suo interlocutore non solo parlava per via telepatica, ma poteva leggere nei suoi pensieri. A pensarci bene, una delle cose peggiori che possano capitare a un uomo del XXI secolo potrebbe proprio essere quella di sentirsi nudo, indifeso, indagato nell'intimo dei propri pensieri da un'altra persona. Ricordava di aver provato tante volte a svuotare la mente durante le ore di meditazione, come suggerivano i grandi maestri del suo tempo. Di rado però era riuscito nell'impresa e i pensieri spesso lo avevano sopraffatto. Insomma, la meditazione non era il suo forte. Sentiva il peso di essere come un libro aperto per quella creatura e verosimilmente per tutte le altre che avrebbe potuto incontrare di lì a poco. Anche perché quella botta di adrenalina tanto attesa non era servita per svegliarsi nel suo letto e ormai si faceva largo l'idea che in qualche modo fosse stato trasportato in chissà quale luogo e tempo. E poi, ora che ci pensava, chi era il sindaco? In apparenza era chiaro che egli fosse il capo politico e amministrativo di una città, sempre che la parola sindaco in quel luogo avesse la stessa valenza che aveva per lui. I pensieri si accalcavano nella mente uno sull'altro, senza sosta. Il suo sguardo si rivolse per un attimo verso Virgil. Il volto del compagno di viaggio era solcato da un leggero sorriso, a intendere che capisse il suo disagio e ne fosse alquanto divertito. «Ti prego di credermi», disse, «non hai nulla da temere. Tutto ti sarà spiegato. Un'altra cosa, dammi pure del tu. Sei tra amici». Si fece coraggio. «Devi scusarmi, Virgil, ma non capita tutti i giorni di trovarsimo una situazione come questa. Non vorrei fare, come dire, cattivi pensieri o rischiare di essere frainteso». Tranquillo. Noi comprendiamo che per un uomo del XXI secolo sia difficile essere qui e ora. Perciò non avere timore. «Scusa, Virgil, quando dici qui e ora, esattamente cosa intendi?» Ponendo quella semplice domanda, Ernest si preparava a subire un nuovo shock. «Sai, il sindaco mi ha dato ordini precisi di rassicurarti e anche di dirti il meno possibile. Non te ne averà male. Ci tiene a essere lui il primo a fornirti tutte le informazioni del caso. Questo però credo che mi sarà perdonato, se te lo dico. Dunque, siamo nell'anno 3012». Ernest accolse la notizia in silenzio. Lottava per dominare l'emozione gettando lo sguardo sul paesaggio che nel frattempo pareva aver modificato il suo aspetto. La velocità della navetta era però tale da permettergli di cogliere solo sfumature di colori sfuggenti. La deduzione sul paesaggio era una pura congettura di quelle condizioni. «A quale velocità stiamo viaggiando?» chiese infine al suo compagno di viaggio. «Ti risponderò usando le vecchie unità di misura. Dunque, al momento siamo attorno ai mille chilometri orari. Cosa? Ecco perché vediamo la pena dei colori confusi e non si riesce a distinguere altro. Considera che abbiamo calcolato qualche minuto di viaggio per darti la possibilità di familiarizzare col nostro sistema di trasporto. Perché? Potreste andare a una velocità ancora più alta di questa? Facciamo di meglio. I nostri veicoli sono in grado di portare un passeggero a destinazione istantaneamente. Questo però credo che lo vedrai più avanti. Le paure e le ansie pian piano iniziarono a lasciare spazio allo stupore e alla meraviglia. D'altronde sarebbe stato inutile e puerile lasciarsi dominare dalla paura. Meglio lasciare spazio all'entusiasmo. Era nel futuro. Ed era solo l'inizio.